signori sono johnny cric e siamo qui in compagnia del laggoso lava laggante per provare in live questo battlefield 3 aspetta ma si è sentito il mio porco in lama? aspetta ho visto che ci siamo guarda queste immagini giusto un secondo tanto dovevo cercare no 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 una sola immagine che tanto non fa neanche dire guarda che madonna ok ok adesso stiamo cercando stiamo cercando no aspetta stiamo cercando di cercare una partita su battlefield da due ore e mezza perché io il sistema di inviti di battlefield 3 non l'ho ancora capito nessuno non l'ho ancora capito però vabbè quelli sono dettagli ah poi alla fine ci sarà una chicca che meno male che lama l'ha registrata perché è successa una cosa con il carro armato si no quella è il detto dettagli oh aspetta forse riusciamo a entrare fermi tutti ma io non sto facendo niente si si ci siamo ci siamo ma stai registrando la partita certo ok ci mancherà poi il problema è se riusciamo a metterla tutta insieme ma no quello non è il problema no con tutte le mappe proprio quella che somiglia alla beta o vabbè no ma questo qua da che cari la ma la missione andare a prendere un elicottero e cercare di fare almeno 200 metri no ma qui non ci sono no qui non c'è l'elicottero dai dai dobbiamo vincere in fretta dai dai bisogna vincere bisogna vincere dai vitraglione tutto senso schieramento brù no schieramento rue hai messo rue ok allora vado anch'io là vai vai oddio mi stanno sparando innanzitutto comincia col dirmi dove sei poi io sono su c c'è un nemico c'è un nemico no non è un nemico è un alleato un nemico oddio non ci sono con una granata a tre ma cos'è questo qui è ma adesso lo vado a prendere tanto non c'è il fuoco amico stiamo giocando in modalità tipo fanatico non ricordo neanche la la prima impressione com'è io tipo la prima impressione l'amera uuuu esplode tutto wow così giovanni dietro 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 oddio cos'è no ma stavi sparando a me ah a te stavo sparando si devi tre dietro uno l'ho ucciso io pensavo passare il nemico ah se ti prendo una mitraglietta anch'io perché se no qua ma io sono una bestia ormai a questo gioco ma tu che classe hai il mitraglione gigante della morta assassina oddio 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 guarda quanti di uccido guarda 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 eh son morto cosa mi ha ucciso hai fatto un fail epico eh hai tranquillo cos'è lo snap ah lo snap vabbè uso lo sniper perché volevo arrivare a sbloccare l'M40 ma mi servono tipo no 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 io ho detto lo ho visto l'ho visto vabbè ma scusa come ha fatto a uccidermi c'è qualcosa che non va qua vabbè intanto bisogna bisogna far passare questa partita in fretta perché dobbiamo andare a prendere l'ericotra anche tu ti sei anche tu ti sei schiantato mamma mia i fili con l'ericottero non avete dopo li mettiamo alla fine no no ma qui o per non parlare del carro armato che davvero no vabbè ma lì è stato un bug l'ama perché non è possibile io ero tranquillo dentro carro armato peso piuma dimmi da che parte sei che ti vengo a raggiungere no tu sei scarso ti faccio poco di copertura io sono no io ho il mitarione per fare fuoco dove sei dimmi dove sei sopra c sopra c dov'è c io non lo leggo qua basta di uccidermi ma sei tu quello ah ero io c no 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 aspetta in un pezzo questo caricheremo la mia parte di video perché vi giuro io gli ho sparato per mezz'ora non veniva ferito mi ho sparato un colpo e sono morto vabbè ma perché tu sei scarso no no vedi mortale è quello ci sono 15 persone che stanno cercando di scatare ma guarda che c'è della gente che l'ama prima mi ha fatto vedere dalla classifica ai mondiali se sei andata a vedere c'è un tizio che ha fatto tipo 10.000 kill toh vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua muori si l'ho preso uno l'ama ma io ho il cinquanta oddio mi esploso una bomba a due centimetri go conquista go conquista go conquista no oddio con questo gioco è epico se lo fai con le squadre eh sì ma io e te non vogliamo come una squadra c'è neanche un quarto di persona messi assieme se non troppo scarico ma perché sono i mezzi che non mi danno non mi danno l'opportunità di giocare lei ti paro io ti paro io il punto è impossibile usare il c4 ti giuro è impossibile non muoiono questa cosa qui spara o spara pallini o non è possibile che non uccidessi poi no il punto è che indicappato il tipo non sa lanciare il c4 perché lo lancia e ti rimbalza cioè ti cade addosso oddio sono tutti qua nooo no questo è questo punto tipo lo spasso di mv2 sarebbe stata a straggio la mamma nooo no troppo tempo forse impiega ogni volta a farti aspetta aspetta dimmi dove sei schierato cioè dove sei nato Sì, io stiamo sempre e solo su C Quindi C, quartieri popolari Assistenza uccisione, che non è rubato Aspetta, forse di tu questo qua, è appena scavalcato una ringhiera Sì, sì, sì Venga friend, venga friend Attento che esso arrivano nemici Dove sei? Dove hai girato? Ah, sei qua Qua davanti, attento che Sì, qua, sei qua Tu hai visto? Granata, granata tattica Sì, non muore quello No, quello era con noi Scappa qua giù, scappa qua giù No, io sto qui Ma cosa che muori? E come faccio a scappare se mi muovi? Ti ammazzo Aspetta Aspetta che mi sporo un po' Vieni qua, vieni qua, vieni qua, corri qua Oddio, ce n'è uno forse là, ma aspetta Tu parami, parami il culo che entro io Dove sei? Dove sei? Sei già andato davanti No, sono qui, sono qui io Qui dove? Ma qui sembra lo stesso posto E sono già avanti Ne ho ucciso uno No, non muore Non muore Non muore Johnny, stiamo perdendo assi Oddio, granata Ma io non mi posso muore perché se esco da qua mi sparano Oh, finalmente Che cosa è successo? L'ho ucciso e poi mi ha ucciso lui Dai, lama, dimmi dove sei No, no, no Questo gioco qua mi sono Delucidami Dove sei? Delucidami Eh, sono... Sto percorrendo il serpentone per andare al recaio Cosa? Sono morto Capito Allora, respawna viale del mercato Ci sono E comunque No, non ci sei, non ti vedo Sì che ci sono Sono qua Che cazzo ti ha fatto respawnare? Eh, tu non sei il viale del mercato Sì, io sono respawnare Ah, aspetta, sei tu questo? Ah, sai, guarda cosa avevo fatto qua, no? Per evitare che la gente lo conquistasse Evo riempito così di C4 Eh Eh, sembra che stai distribuendo giornali Ripostia Ok, quindi Nooo Oh, vai 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 che carina troppo è la Ma aspetta che mi nascondo così Allora, io ero ucciso, cacchio Aspetta, forse vicino Dimmi, dimmi quando sono conquistando B Che faccio esplodere tutto Vai, vai vai, prova adesso No, ancora no, ancora no, mi sa Ah, è perché io ho un po' mia tolto l'inquadratura Fai da esca, fai da esca Fai da venire verso di te Eh, sono vicino al furgocino Ma non c'è nessuno Ma no, ma l'hai ucciso Ah, ah, non dovevo ammazzarlo Eh no Eh no, vengo sopra Vabbè dai, vieni, vieni via Dove sei? Andiamo verso A, vieni verso A Vai, arrivo Ecco, ti sei lì No, ecco, ti sei lì, cosa vuol dire? Io non ti vedo Eh, qua davanti, vieni Ah, ok Prendi le munizioni qua Eh, no, ma io ho ciulato il kit A1 Vabbè, sì Che ci ha messo bene, perché c'ha lo scarro e la pistola silenziata Vediamo se ha colpi di bazooka Eh, le mine, questo Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni Eh, sto venendo, sto venendo Ma questo corre più le... Eh, no, ma no T'ho salvato Ah, no, sono morto Ah, vieni, sei salvato Ah, dai, entro io, entro io Aspettate che metto l'assalto Aspettate che metto l'assalto Così rianimo la gente Dove devo andare, dove devo andare Eh, uso l'M4 o l'M16 Vabbè, io mi butto di qua Decisione, metto l'870 Ne ho visto uno, ne ho visto uno Non muore Non muore, non muore, una mila di merda Preso, preso Via, scappare Arrivo a curarti Scappare, scappare Dimmi dove sei che ti raggiungo Qua giù dietro di te Mi stai colando incontro, vieni T'ho visto Tieni, vita Ma sono al 100% Ah Io sono troppo, bro Se muoio rubami il kit e curami Aspetta, andiamo qua così E come si fa a curare? Te lo spiego poi se muoio Occio, occio Granato Granato Io non ne ho, non ne ho granata Che fail Ma scuola, l'hai tirata vicino alla porta la granata Mi stavo per suicidare Go, go, vai, vai Vediamo se c'è qualche libro interessante No Stiamo conquistando, è a te Aspetta che forse c'è un nemico Vedo un puntino Oddio, oddio Va giù il negozio Non si vede Richiedi munizio Eccolo Dove, dove? E lì dentro di garagio Va, vado io, vado io Parami Cosa parami? Vai, vai, vado Spara Eh, sono morto L'ho preso, l'ho preso Ho conquistato Ne sono pieno No, ma perché sei morto? Non rigenerarti, non rigenerarti Eh, rigenerami tu Come si fa? Come si fa? Tasto destro e non vedi i fibrillatori niente Eh, non mai, ci sto rianimando nel culo ma sei scompasso Vabbè Sì C'è qualcosa che non fa Ecco, mi sto rianimando vicino a te Ok Vai Oddio, là c'è uno morto, aspetta che lo curo Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio Vai, vai, ti paro io Vai Vai L'ho fatta Vai, vai Eppi qui No, eri morto Aspetta Vai, non ero morto Non tu Entro io, entro io Levatevi Dove? No Ma giocati No Ma curami Dove sei? Curami, curami che son morto Ti rianimato, insomma No No Non ti ho beccato No Prima provo Provò a rianimarti nel culo ma non morire Ok, aspetta Allora Dove sei? Dove sei nato? Dimmi dove sei nato Tu che ti vede Io ho nato Aspetta, vado a schierare Passaggio angusto Ok, ci sono io C'è questo qua che mi sta tirando qualcosa addosso Ah, le munizioni Eh no, ma Cioè, sono nato morto Cliccate in sangue Vengo io, vengo io Ti salvo io No, non ce la fai Ce l'ho nascosto in un garage Eh, una stanza in un garage Ce n'è uno nascosto in un garage Sì, ho capito Ma non lo trovo Eh, nasci a Piazza E sono ancora vivo? No, passaggio Ecco, l'ho visto L'ho visto poi nascosto È mio Gli sono andato alle spalle L'ho ucciso Basta Grande Ok, ok Oddio Oddio, ok Ho preso una targhetta finita Vieni con me Corri su Dove sei Oddio, qua su mi sparano No, se non posso Salta la luce Mia madre ha acceso La spina polla Ok, l'ho preso L'ho preso L'ho preso Eh, poi Gli ho sparato io Con una granata Vieni su Vieni su È tutto libero No, non è tutto libero Non è tutto libero Non è libero Non è libero It's not clear È mio È mio Non muore Non muore Perché non hai giulato No, no Mi ha dato soppressione Basta Sto scherzando Oddio, una granata Via, via Via No, sono morto No, non posso curarti Tu mi hai detto di andare via Se ho scappato verso No, però qua non va bene Se non c'è un elicottero Ti ho curato, Gio Oddio, mi eri animato Eh beh Sììì No, no, dietro di te Dietro di te Oh, chi è questo? Io Pensa a te Oddio Cos'è che è riuso? Il colo spawn è meglio di colo Vabbè Ma chi è questo? Ma la gente nasce dove nascono tutti Ma cos'è? Dove sei là? No Non ho più munizioni Valedizione Ruba un kit che... Questa bella gran là Giusto, ruba un kit Hai ragione Ho rubato un kit con un bel fucile d'assalto Cos'è? Questo è da medico Dove sei, Gio? Eh, sono qua Ecco No Oh, iiii Ma sai c'è qualcuno là? Sì, sì, sono un medico Sono un medico L'ho visto L'ho visto L'ho preso Io, con un c'era di un peccato Ti curo io Ti curo io Ti curo io Adesso sono medico Grande Gioco di squadra Oddio Oddio Ti curo io Via via Che silurata L'hai vista L'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso Tu sei vivo là ma Ora sì Vado a curare quello No, è troppo rischioso Lascio lì a morire Ma povero E tanto non ci arriverò mai Aspetta, ti vengo a prendere da sotto Vieni, io son qua No, son sopra di te, fermo Vai, andiamo fuori, dai Pronto Sai che lancio un cosapri Sicuro Che cosa lanci? Non c'è nessuno Conquistiamola Dai, entriamo dentro Vai, vai Oddio Qualsiasi ruo Mi stesse arrivando a me Chi sta sparando? Eh, non lo so Eccolo, eccolo E qua so No, credo che mi abbiano ucciso Anche secondo me Ok Grande Guardate, guarda che squadra Occhio 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 Non lo dico Oddio Pensavo stessi scherzando Io muoio e torno in vita 600 volte Io pensavo stessi scherzando No Ti giuro, c'era uno dietro Ah, se Allora Che gioco di squadra è formidabile Hai visto che roba Vai, vado di qua, vai No, no, andiamo subì Andiamo subì No, dove sei, dove sei Vai, se J'arive, J'arive J'arive Aspetta che mi sono bloccato nei paletti Già rive Oddio Chi è? Chi è? Dov'è? Soprattutto dov'è? E' laggiù sulle scale C'è sul ponticello Sul ponticello dove? Davanti a noi L'ho visto Mi sta sparando L'ho visto L'ho preso Grande L'ho preso Stai per morire Lo so, ma ho il kit No, ormai abbiamo perso Non c'è più speranza Vai, vai, andiamoci Buttiamoci nella mischia Tanto ormai Vai, tanto io sono troppo forte Guarda che c'è qualcuno di qua Mi sa Eh, ormai abbiamo perso Basta No, no Mi butto io Vado io a conquistare Morto Ho c'ho Ho c'ho Ho preso L'ho preso L'ho preso Pui Puiung Puiung Che mi clina Ho preso Ho preso Oddio, oddio Spara, spara, spara Cos'è richiedi cure? Ma sono ancora vivo Sono ancora vivo Prendi sta cavolo di fucile Ma questo qua è un nemico 3, 2, 0 Abbiamo perso No Eh No, allora Io mi butto Mi butto All'attacco All'attacco No Vieni qui Vieni qui No Oh dai Finiamo sta prima puntata Sì dai La prossima Però la prossima sarà caricata sul mio canale Ricordate Fatto feed lama Prima puntata Alla prossima signori da Jody Creek Ciao ciao Porco il lama Porco il lama No No Oh No 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 2 caiupo